A distanza di una settimana il capo di Leuca registra l'ennesimo sbarco. In sei sono stati intercettati a circa 26 miglia a largo di Santa Maria di Leuca a bordo di un'imbarcazione. Recuperati sono stati condotti presso il porto per essere soccorsi e rifocillati tutti uomini di nazionalità siriana e irachiena individuati in mare dal personale della Capitaneria di Porto. Trasbordati su una motovedetta e scortati verso il molo del porto di Leuca, tra loro anche un minore di 16 anni accompagnato dal nonno nel viaggio della speranza in cerca di un futuro migliore. Tutti sono stati trovati in discrete condizioni di salute a soccorrerli i volontari della Croce Rossa italiana. Successivamente il personale della Questura ha provveduto a disporre il trasferimento presso il centro di prima accoglienza ad Antonino Belo di Otranto, dove sono state avviate le procedure per l'identificazione.